Se io non avessi una vita di merda ve l'avrei detto prima Se io non avessi una vita di merda probabilmente avrei avuto tempo per organizzare le cose E invece no, perché sono andato in culonia nella mia vita Se la mia vita non facesse gli scherzi probabilmente sarei riuscito a dirvi prima che sarei stato al Cartumix Ve l'avrei detto prima, invece no Invece sono qui a dirvi il giorno prima di quando sarò al Cartumix Che sarò al Cartumix, l'organizzazione Insunto mi troverete al Cartumix dal 10 all'11 Dalle 10 alle 19 Inoltre ragazzi, domani alle ore 15 faremo un raduno al Padiglione 20 Nella zona dedicata ai tornei di PlayStation 4, Xbox One, Switch e... In sostanza qui Seguite la mappa e non rimarrete delusi Saremo lì alle 15 più o meno all'incirca Staremo lì un po' di tempo per aspettare le persone E poi magari andremo in giro per la fiera assieme Se non saremo tipo 50 come lo scorso raduno Ma dubito visto che non si è riusciti ad organizzarlo Comunque nulla, mi troverete al Cartumix Per quell'orario lì ci sarà il raduno E il Cartumix ragazzi si terrà a Roffiera Che è facilmente raggiungibile Sia in metro da Milano Che ragazzi in treno se venite da fuori E ovviamente la fiera a Milano come ogni anno Penso che sia scontato Spero di vedervi molti nel raduno Ma in generale per la fiera Per scambiarci opinioni, regali, gadget, bacini, carezze, intime Insomma tantissime belle cose Spero per l'appunto di vedervi Mi dispiace per il tempismo inesistente Ma purtroppo come dicevo nell'outro abbastanza incazzata Avevo da fare E purtroppo non sono riuscito ad organizzare bene Comunque sarò con Luke, sarò con Tia, sarò con Frozen Con Iveltal, con Fabio Con un sacco di persone Quindi ragazzi ci troverete davvero in tanti Ho dei capelli di merda E niente ragazzi Spero di vedervi al Cartumix Spero che questo video vi abbia fatto schifo In questo caso lasciate un bel dislike qui sotto Rispondete al sondaggio dicendomi ovviamente se sarete al Cartumix oppure no E se verrete al raduno Mi raccomando ragazzi Prima di ogni altra cosa Mi raccomando Seguitemi su Instagram Perché lì ragazzi vi potrò dire dove sono esattamente all'interno della fiera Ma proprio preciso Così almeno se non riuscite a venire al raduno Potete comunque cercarmi all'interno della fiera E insomma possiamo incontrarci comunque anche lì Detto ciò io spero per l'appunto che il video non vi sia piaciuto Io vi lascio qui E noi ragazzi ci becchiamo al Cartumix Ciao 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 Ciao